inspira ed espira ed espira non hai mascara vero? avevi solamente un po' di correttore per quanto riguarda le macchie della pelle è importante ehi ciao bellezza che piacere rivederti dopo tanto tempo come stai? oggi avevo in mente di andare a prendermi cura della tua pelle vorrei per fare un bel trattamento skin care in modo tale da rendere la tua pelle luminosa ed idratata e allo stesso tempo per far si che tu possa rilassarti e concederti questo momento di pausa e di benessere che te ne pare come idea? allora se per te va bene direi che la prima cosa che dobbiamo fare è accendere una candela qui ho la mia scelta per oggi questa è una candela a lampra e vorrei accenderla dal momento in cui accendiamo la candela ogni tuo pensiero scivolerà via dalla tua testa d'accordo? andrai a liberare la tua mente da ogni preoccupazione e sarai tranquilla e calma cerchiamo di rendere la stanza un po' più confortevole andiamo a profumare un pochino l'aria per rendere più piacevole l'esperienza d'accordo? ora ti faccio sentire la profumazione mi dici se ti piace è avvolgente è avvolgente come profumazione vero? allora prendiamo un fiammifero un po' più spazio per por per per a per 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 la per per e ora che la candela è accesa puoi liberare la tua mente da tutti i tuoi pensieri, d'accordo? se puoi aiutarti prova a seguire il movimento della fiamma e allo stesso tempo cerca di fare qualche respiro profondo per calmare la tua mente e il tuo corpo ispira ed espira ed espira buttaci via tutta l'aria tutta l'aria ancora buttaci via tutta l'aria ancora un'ultima volta perfetto perfetto ora direi che possiamo iniziare ho acquistato per te questo set di prodotti skin care della Cleanians sono dei prodotti perfetti per la tua tipologia di pelle visto che hai la pelle che ha tendenza acne che ha una pelle mista grassa direi che questi prodotti sono perfetti per te in questo set ci sono tre prodotti skin care e noi oggi ne andremo ad utilizzare solamente due questo e questo ovvero il latte e tonico e questa crema idratante qui dietro abbiamo la spiegazione dei prodotti bella stressata, spenta e disidratante questo cofanetto contiene prodotti ideali per detossificare la pelle del viso purificare e migliorare l'ossigenazione ecco gli step per completare al meglio la tua video routine abbiamo applicatamente impurità e tracci il trucco con detox latte e tonico in combinazione di detergente sul latte a quella purificante del tonico l'utilizzo costante aiuta a svolgere un'azione di tossinate grazie alla emozione di impuretà e trucco contiene acido mantelico e una miscela di alfa idrossiacidi di frutta che permettono a chi spugliare delicatamente la pelle del viso favoriante nel rinnovamento cellulare utilizzalo mattina e sera per un'azione di tossinate e poi abbiamo completo la doppia di routine con detox trattamento rivitalizzante super idratante che grazie alla detox technology purifica la pelle aiuta a prevenire la formazione delle tossine e facilita l'allineazione e poi ho qui anche questo siero ufo ultra clarifying face oil che ha l'1,5% di acido salicilico perfetto quindi per pelle impure direi di partire con il latte tonico qui abbiamo la nostra scatola argentata che fa un bellissimo suono che fa un bellissimo suono e andiamo a prendere il prodotto che ci serve eccolo qui ci dice di applicarlo sul viso e sul collo ma assaggiando delicatamente la spurtare con una spugna umida o con un dischetto di cotone l'utilizzo costante aiuta a svolgere un'azione detestinante grazie alla rinunzione di impuretà e trucco quindi ora inizieremo con il rimuovere le impuretà e il trucco dalla tua pelle in modo tale da avere una pelle pulita per il secondo passaggio che sarà ovviamente il siero che ti ho mostrato prima se vuoi rilassarti, chiudi gli occhi e affrontando ascoltare un pochino il suono di questo prodotto in modo tale, in modo tale e andiamo a massaggiare il prodotto delicatamente sotto il viso dimmi se per caso ti dovesse bruciare o per caso dovesse darti fastidio magari la tua pelle regisce in questa maniera il prodotto non vorrei mai crearti disagio non hai mascara vero? avevi solamente un po' di correttore direi che lo sto sciogliendo per bene ecco un po' di rosso chiaro vero? allora vado anche sulle labbra no non 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 ok perfetto qui ho questa tazza con un po' di acqua leggermente fresca spero che non ti dia troppo fastidio e ho anche questa spugnetta che andrò ad utilizzare per levarti il prodotto dal viso prima ascoltiamo un po' di suoni dell'acqua un po' di acqua un po' di acqua un po' di acqua un po' di acqua ti piace più il suono della mano che scava nell'acqua oppure il suono della mano che prende l'acqua con un po' di acqua che un po' di acqua che andiamo ad immergere per bene la spugnetta e te lo posso delicatamente sul viso in modo tale da lavare tutto quanto questo andrà ad effettuare anche una leggerissima azione spugliante che mi aiuterà a rimuovere un po' di cellule morte che mi aiuterà ok ok ... mi concentro bene un po' sull'altro perfetto direi che ora possiamo passare a quest'olio quest'olio è molto particolare è ancora un po' pungente spero che non ti dia troppo fastidio la profumazione però è davvero ottimo per quanto riguarda le macchie della pelle è importante e come vedi è verde molto particolare ti metto qualche goccia in viso 1,2,3,4,5,6,7,8,9 direi che può bastare inizio a massaggiarti l'olio sulla pelle e successivamente andrò a continuare il massaggio con questo prodotto che mi aiuterà a scrappare leggermente la pelle ed essendo che emette delle vibrazioni sarai in grado anche di rilassare i muscoli del tuo viso adesso ora andiamo per a versi adesso qui 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 grazie perfetto e ora andiamo con questo vado con dei pigmenti circolari questa vibrazione unita alle setole di questo prodotto mi aiuterà ad aprire per bene i pori grazie anche all'olio che abbiamo utilizzato grazie a tutti 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 e ora però possiamo passare alla crema fornisce e mantiene un apporto ottimale di idratazione aiuta a migliorare l'ossigenazione della pelle detossifica la pelle e la protegge dai radicali liberi, dalle stress ambientali esterni texture fresca e vellutata e di rapido assorbimento per una sensazione di ritrovato benessere risultati giorno dopo giorno la pelle del viso appare perfettamente idratata, riparata e purificata con un uso continuativo l'incarnato apparirà più fresco, luminoso, tonico e revitalizzato ingredienti gli ingredienti sono complesso marino ad attività idratante, immediata e a lungo termine 24 ore che rafforza la barriera protettiva della cute, attivo cosmetico che stimola il naturale processo di detossificazione, purificando e rigenerando la pelle mix di minerali ad azione ossigenante e nitenergizzante che migliorano la vitalità cellulare contiene inoltre filtri solari con SPF 15 e un attivo che offre una protezione attenzionale contro la luce visibile aiutando a contrastare macchie cutanee che non è perdita di luminosità e colorizzo spento andiamo ad aprire ovvicinando attenzionale un'acquesta ecco la puntetta consigli d'uso applicare mattina e sera sulla pelle del viso e collo perfettamente di terza asciutta ma assaggiando fino a completo assorbimento se ne consiglia l'uso in abbinamento agli altri prodotti della linea ed eccola qui non sono piensi e gues 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 Sì, 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 sì. Ne vado a prendere un pochino, è azzurrino, ne vado a massaggiartelo, bene, 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 bene. Rilassati per bene, rilassa bene i muscoli del viso, rilassa qua in mezzo alle sopracciglia. Cerca anche di rilassare per bene le spalle. Rilassati 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 per bene le spalle. perfetto direi che abbiamo fatto ora ti do la buonotte spero tanto che questo trattamento ti sia piaciuto e che tu ti sia rilassata un pochino ora chiudi gli occhi e dormi 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 buonanotte 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 buonanotte